Un saluto a tutti e ben ritornati di World225 dove ci avevamo lasciato nello scorso episodio su Panzer 1, codename Panzer Phase 1. Avevamo avuto una vittoria nel campo d'aviazione, sì l'obiettivo era da prendere da quest'altro lato per avere rinforzi e avere un po' più di Panzer, beh peccato, non lo ricordavo sinceramente, non è che posso ricordarmi tutto. Proseguiamo, qua c'è la nuova upload risultati, continua. Allora, penso che ci sia da attaccare una stazione ferroviaria se non ricordo male, clicca per continuare. Vediamo subito. Io insisto, graficamente è meglio di molti altri giochi moderni secondo me. Sì l'obiettivo è questa stazione, è una stazione, mi ricordavo bene, allora vedi che cosa dei flash mi vengono ancora in mente. Soizkratzwagen, vedete passa un aereo sembra sopra la mia testa, ma fa lo stesso. Allora, Soizkratzwagen, oh, riceviamo di rinforzi comunque, bene. Answeiguns, allora. Allora, se non mi fanno male si può fare che questi qua entriano automaticamente nel lobby, cioè ci viene dato che l'obiettivo c'è, SIG33. Ok, poi abbiamo, andiamo se c'è, questi sono camion vuoti. Allora, facciamo così. Mettiamo così e li mettiamo con il numero, no, li mettiamo con il numero di raccolta. U2. Ok, tutti questi li mettiamo con il numero. Uno, ok, e li facciamo avanzare. Due, poi abbiamo anche il camion riparatore e il camion di munizioni, bene, bene. Bitte. Forward gate. Ok, stacca. Verstandan? Artilleria. Via, 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 Panzer 1, viene a fatti riparare. Non ho l'artiglieria. Boom, in pieno. Ok, ripariamo il Panzer 1. Perfetto. Unza messo. Bam, attaccata. Ok, facciamo avanzare i nostri Panzer e la nostra... Anche le munizioni di affare normale. Facciamo avanzare qua, dove è la stazione? La stazione è qua giù. Ok, la stazione è qua giù, quindi ci arriviamo. Oh, ci sono degli Spollaxe. Motor an. Und schuss. Unter beschuss. Unza beschuss. Vorwärts, kameraden. Ok, distruggeteli. Forward, kameraden. Wir befinden uns unter beschuss. Vorwärts, kameraden. Vorwärts, kameraden. Vore, che camion... Interessi. Chi è che spara così? Ja? C'era qualcuno che sparava in... Wir befinden unschossen. Guarda, c'è qualcuno che ci spara in modo molto aggressivo. Warthrug meldet sich. Unter beschuss. No, no, il mio cannon di... No, via, 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 via. Vai via! Ok. Bin getroffen! Vai, levati! Demenza artificiale. Ok, los. Ziel in visier. Ok, staccate, sparate. Aghial, pazz... Via, 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 via. Spara, spara. Ziel in visier. Ziel in visier. Boom, bel colpo, GG. Wie lauter der Befehl? Bitte. Wir werden angegriffen. Bitte. Madonna, che sbotto. Ci deve essere un artigliere da qua. Oh, c'è un Panzer qua. Andiamo di qua. Presi in pieno, proprio. Forwärts, kameraden! Forwärts, kameraden! Und nun? Fahrzeug melde sich. Dove pensi di scappare? Infa... No, che è? Si è bloccato tutto. No, che cazzo fa questo? Eh, GG. Complimentissimi. Bel atterraggio. Ottimo atterraggio, oserei dire. Però... Affondato, vabbè, che devo fare? No. Vai, comandante. Ok, di farò che è il. Ciao, non è vero. Los, los, los. Ben getroffen! Mancato, muore, perfetto. Los, 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 qua. Allora, los, geht's. Ich warte auf anweisung. Ja. Allora, los, geht's. Los, 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 los. Panzer 1 riparato, lo mandiamo qua. Sta iniziando a piovere anche, quindi molto bene. Vorwärts geht's. Und los. Und los. Herr Leutnant, hier steht ein leerer Panzer. Ich leerer Panzer. Allora, se non mi ricordo male, solo gli equipaggi di Panzer possono guidare Panzer. Infatti, se metto questi, non ci vanno. Hier, Herr Kommandant. Jawohl. Jawohl. Abbandoniamo il Panzer 1 e prendiamo questo che è meglio del Panzer 1. Il Panzer 1. Facciamo che mettiamo questi sul numero 3. Il numero 3, venite qua. Los. Hier, Herr Kommandant. Bitte. Bitte. No, voi volevo, io volevo sempre sul numero 2. Ok. Allora, dobbiamo andare a salvare quel signore là? Ero all'estremo accentore di sì, quindi portiamo i nostri Panzer. Act 1 Panzer? Ogni tanto si dimenticano come si guida. Come, Kameraden? Befez? Ok. Ce ne sono. Oh. Ungrave! Che vuol dire attaccare in te, te, scanne? Chi è che ci spara? Oh. Dove cavolo sta andando questo? Dove cavolo sta andando questo? Vai là. aggiriamolo guarda guarda che ha capito che volevi ti abbiamo aggirato bastardo ausgabe clara bitte bitte no no madonna morite bene 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 good job perché stanno sparando oh madonna hanno fatto esplodere tutto qua come una cattiveria inaudita bitte bevigo ok bevigo andiamo di qua andiamo ad attaccare con la fanteria madonna si panze guarda che figata che si vede dentro schiacciati proprio chi che spara c'è un tankette c'è un tankette blitzkrieg assolt blitzkrieg ok portiamo anche i nostri camion qua c'è rimasto un camion qua di giù che è la fanteria forward guarda quello sta scappando infame guarda che arriva il treno ciuf 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 oh che portano altri carri armati polacchi incredibile hanno anche altri carri armati ma che figo che hanno portato i carri armati sui treni bravi bravi polacchi poi io vorrei salvare oh la mia stima vuoi scappare ma scherzi ma scherzi mi vengo a salvare molto volentieri come faccio a salvarti motor starten befele ok befele vorrati in richtung zilpunt facciamo i nostri camion qua befele befele forse c'è bisogno di medici no no devo farli uscire non so cosa ci voglia per farli uscire da lì forse un camion boh basta per chi ci vuole lì venite qua a focillare tutti ok un nuovo befele è felice il fuoco è bloccato hm il carriere si ok il camion munizioni qua c'è il camion dell'attiglieria come faccio a salvarlo non riesco a salvarlo come si chiama l'attività comandante forse lui ce la fa vediamo si è dato si boh voglio vedere cosa fa no si ferma qua eh come faccio a salvare forse i fanci no si incattiano aereo da ricognizione caccia bombardiere cosa abbiamo lasciato indietro io avevo detto a tutti di venire qua perché non escono più ok oh direi di uscire è ancora un po' macchino i comandi in effetti i comandi in effetti sono un po' macchinosi e qua cos'è rimasto un po' di cui non me ne faccio assolutamente la mazza eh ciccio pasticcio io non so come aiutarti ti vorrei aiutare ma ti vorrei aiutare ma ti vorrei aiutare ma ti vorrei aiutare ma ti vorrei a venire qua che è illuminato e cosa posso fare per aiutarti non saprei forse ci sarà un veicolo speciale qua nel villaggio non lo so non ne ho più palli di idea non me lo ricordo sinceramente ok avanzo con i nostri panzi qua c'è la stazione oltretutto forwards camaraden qua c'è la stazione let's go to the station ii vato auf anweisung alzo los geht's archbos los geht's si però potrengare duttarlo giù quel vediamo cosa troviamo qua oh morta mortaio morite 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 in decom merda tu stai subendo troppo stai subendo troppi danni dove cazzo è il ok la cosa di mia merda merda si sono incazzati con la fanteria merda si sono incazzati con la fanteria merda fuggite sciocchi Perchè tu non stai riparando lui? Dove cacchio sta andando? Ok, curate Ok, dovremmo essere riusciti Curateli Dai, non puoi buttare giù l'albero Invertiamo la rotta Ok, ben di sotto questa casa Artiglieria Avanziamo, vediamo se è un po' Veloce, blitzkrieg, blitzkrieg Io qua non so come aiutarti amico mio, mi dispiace, eh, non so come aiutarti proprio Buttiamoci un caccia boom E il caccia fa il suo dovere Vorwärts kameraden Vorwärts kameraden Perchè? 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 Abbiamo finito la missione Perchè? 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 Perchè?